bella a tutti ragazzi bentornati oggi finalmente sono usciti questi benedetti vestiti di natale quindi sono andato a creare subito un outfit che spero vi possa piacere se così fosse lasciato un bel like e commentate per farmi capire appunto se vi piace o no ora prima di iniziare però come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale e di passare per i canali del team glitch e dei canali amici che troverete sotto in descrizione ora vi lascio al video e ci sentiamo dopo ciao 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 bene ragazzi spero il video vi sia piaciuto soprattutto spero l'outfit vi sia piaciuto se così fosse come ho già detto commentate iscrivetevi al canale e al canale del team glitch e noi ci sentiamo alla prossima bella per tutti ciao